il tuo studio... cosa cacchio è? non lo so, non lo saprei non ho visto neanche di che nazione è di che... non lo so, sembra di nordico l'indiano non crede non conosco la lord di questa persona guarda com'è camminato a bullo il mio oh ti spacco la faccia ti spacca a destra puoi un po' di castagna vuoi un po' di castagna? ma io rido come Raffaella Carrè poi i castagni sono ghiandri guarda che cacchi sto dicendo ma sei Raffaella Carrè carrabile la mia è serissima proprio ovviamente più che imbalze spalzo da bestia la mia lì è zara non ero tutto lì non sa che c'era anche qualche altro colpo oddio è un po' potentissimo vedo che con un po' di ping usare la dc io potrei correre ragazzi posso correre e tanto arriverà qualcuno da qua no ah si guarda di qua corro lo stanno capo via muoio muoio ma dai Mena sono morto dai nod ma che schifo guarda ma Mena sono una bellona ragazza una ragazza bellona che pazzo le vado via non ho capito cosa c'è oh sta ma io che sta laggando cosa? è tornato effettivamente è un tuo dritto verso di me infatti non ho capito cosa è diventato drogato me la fai? forse tra 50 anni si c'è una troione che mi insegue e la vedi che c'è? ma sono bellona non troione ma ci sei Moro? non mi sta aiutando ma vuole chiappe lo uccidevamo che mi seguimo non è vero si è in fin di vita c'è metà vita in fin di vita ma che metà vita avrà fatto apro l'ombrellino apro l'ombrellino Firi 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 Fiii Firi 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 ma c'ho carambola ma do a carambola l'ho preso ragazzi quando volete io vado dai vai guarda che non sono Hercules adesso basta andare back così a casa ma ti tiro una frustata cosa fa quel piccione lì dietro però? sono della mappa io sono della mappa io sono della mappa bravo eh sei Francesco della mappa eh si sono potente Moro tieni un ombrello che ti ho questo ciccione sta fermo? questo grasso sta fermo no guarda guarda questo uomo con la burigia avanzata come si faceva il quark? è partito con l'ulti cosa fa? oddio cos'è quell'ulti? salta in alto la mano muovi il tuo capitano io scappo lontano te l'ho messo dentro la mano che ho tirato via metà via tutti orca vacca sono entrato nei metà di Esprit ho tirato via tutta la vita amici dove fai? perchè sei di là? fuori cori è diventato un ciccione gigante si mi tiro le bazzate ma me l'hai stilata tantissimo mettiamogli giù la torre questi qui si continuo a dire umbrellas don't cover everything ARRIVO! wiiiiiii la carta spinge come spinge Federico ma povero Federico nell'ombelico di quel paulino ma che sei invitato troppo straccio aia devi stare fermo la torretta te la infilo dentro aia dentro? aia vai not vai tutti dentro vado vado ma che fastidio sto nano guarda morti desert veramente amici mi butto non è vero solo per scappare da lui aia comunque non sei stata un'idea un po' del caliuk te lo dico in realtà è forza no ma non va bene mai l'ulti qua becca quasi ma fa male l'ulti non fa guarda nelle partite vere lo usano solo per gankare vabbè effettivamente c'è un vulcan che vulcan lo shotta aia diririririri quante friccine mi sto prendendo ok eliezer cosa? non ha letto vado me ne vado me ne vado ad amsterdam ma perchè devo pingare con la di carry che non riesco a giocare guarda qua 180 di ping si potrà guarda uuuuuh grandi juke fondo mappa dat juke ma il nissan juke eeeh bravo e no tutti nella falsa te li sei presi andiamo andiamo trofico fele cosa fa quel cretino sono grosso adesso mi cammino piano cammino piano per non far cammino mi addormento cammino e me lo ha detto zio pino ma zio pino becco sei chiara aia male eeeh ce l'ha detto il cinghiale ah dai buttiamogli su sta torre bella quest'ulti eh arca vacchina ma dove hai risaltato un'altra volta? ero lì ero sotto di te ma mi sei scomparso davanti a un certo punto si è chiarato come l'aria eeeh io becco fuoristrada eeeh ma cosa? è un duetto particolare ora come sono spaccone ah oh ve magno ah oh ve spacco erdito ah oh ma te sei l'unico non romano in questa squadra eh vabbè ma cosa dici? è vero tu non sei romano sei cinese sono eh beh sono belli cinesi sono tutti uguali eh non parla romano però ma perchè la camminata è da qua ah oh ve spacco ah oh ah mignotto niente non son buono no mi butto? dai dai no dai ti butti? no dai dai che morbido che build si sta facendo non vedo neanche le skill talmente sto lagando adesso non stavo neanche lagando ma non l'ho vista lo stesso ah si si quando vuoi culo ambulante ma ti sembra il modo di chiamare un compagno di squadra eh? dai ti sembra aspeee sei veramente un culo comunque no non è che con un pomello su ma mi state parlando male di me? eh sì mi state parlando male di me grazie signore grazie grazie signore grazie ciao amici fammi stannare il nanetto qui che arriva adesso eh salto in alto portalo sotto tower quanta gente c'ho qua orca miseria ma do bravo ma do ma do ma do ma do ma do tu stavi fermo comunque c'ho l'unica che della squadra io eh ve lo dico eh e un altro po' non la facevo e non c'è da vantarsi comunque per dire occhio esperti sei solo io sono un povero scoiato io sono un povero culo ma do se sei un culo aia ma portale ti vesti sbogliatamente non metti sbogliatamente ma guarda te che non avevo la skill ma do anche io posso teletrasportare mi son caccato da solo eh sì adesso pulisci no la nostra middle tower is my doll attack my doll la tua band andiamogli a buttar giù la torre vai vai vieni pro yeee perchè aia eh perchè riuscola così la skill mi sembra giusto aia quanto vuole signor culo quanto dolore mi sono fatto grazie signor culo cane signor culo cane eeeh siamo fratellini di eeeh capovia guarda l'iazzar che mi salta nel groppone niente l'iazzar tu solo e guarda che buco di culo che scappa via come le anguille eh spirit via quanta vita ho buona quanta basta per scappare niente non mi pello un caso ma dai è caduto nella terra eeeh sì sì fammi questo di male questo ma io diri le mazzate guarda occhio eh spirit eeeh si colpisci colpisci la roccia colpisci però vado in base ma chi debolo la roccia non metti mai niente ah penso che solo a in otto possa capire chi è debolo la roccia non ho capito scusa debolo la roccia debolo la roccia debolo la roccia ma chi è debolo la roccia ma chi è debolo la roccia eeeh eeeh cosa scostiamo da eeeh non sta fermo liezza ti devo spaccare la faccia sto nano quanta gente sotto torre aiaa veni qua qua via che palle che scappa ah c'è un portale qua dai aspettiamo ecco che becchio adesso io devo becchiare mi spacco la faccia eeeh sprit mi stanni 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 aiaa aiaa diciamo che ha becchiauto sei lì voleva fare il simpatico adesso se lo ritrova all'interno ad eccedere esatto vado via però è arrivato un pupazzo vado ah mi ha fatto un saltino adesso è esprit però se non sta fermo con che mira quanto rangers cosa fa qua è diventato grosso adesso è ancora più ciccione quel grasso madò madò e me li devo beccare però ho capito aiaa quanto danno aiaa no becco un danno della madò becca becca aiaa eeeh estring ah pensavo io a me è estring che mi fa saltare le balline tanto in alto non mi prendi che palle che salti quanto è OP quella cosa vabbè tutto il resto però fa che care si beccati sta martellata in face ti tu di ti tu di ti tu di vado via toh prendi un ombrello non mi piace grazie guarda che particolareggiata video cosa vuoi fare vieni qui ti spacco i denti ti frusto io dai dai guarda che vengo eh si vengo qui si prende una martellata complementi sto arrivando a salvare la situazione sei non arrivato però Mark mi moro qua adesso ma una martellata te la prendi adesso vieni qui no no guarda quello scogliato come corre dai vieni qui guarda guarda l'ombrello lo sto nascosto nell'ombra vieni nascosto nell'ombra appena arrivi ti ciacco di botte vieni qua Esprit perché qui lo sapevo vieni qua Esprit vieni qua quanto è prevedibile guarda che l'ha detto cretino non lo vedi infatti cioè sei proprio corri quante cose hai fatto eh volevi gancare fare un buffone guardalo che ho fatto con un cretino cretino guarda che c'è anche uno scogliato l'ho finto adesso io ti mangio almeno immagino non sia finto eeeh prenditi sto martello marco ma che bello è arrivato anche Magalli voleva partecipare oh hai qualcosa che non va contro Magalli eeeh quel triplomento ah non 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 è possibile non non armi eeeh beccati sta martellozza wow la torre sacci danni salto in alto palle Mark ah mi ha visto mi ha visto quanti portali quante robe ah sono lento sono lento tiè 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 Magalli tiè rido ahahahahah ma tu vieni qua ti frusto adesso dazzo però che mi devo concentrare mi sto fidando tra l'altro capo via e sped puoi tirare la tua ulti se vuoi eh io tanto salto quindi non c'è problema io tanto salto e io scappo via come tranquillo ma che è un po' cacchio sì volevo dire quello ma non son buono vado via vado via mi dispiace devo andare il mio posto il mio posto eeeh 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 salto in alto salto in alto porca il danno eeeh guardalo che arriva il danetto aaaaaaah arrivo arrivo aaaaaaah aaaaaaah l'ho schivato che miseria io sto arrivando perché arrivo e su oh te magno metti se magno aia ho fatto un po' di male dietro qua il coppino vedi qua dietro vado di qua io mi dispiace non voglio più giocare con voi era ora che te ne andavi dai no torno dai no torno guarda carambola stunnato eeeh dovevi tornare in modi sì infatti sto i no tornando eeeh 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 va bene dai torna ti spacco la faccia moro moro guarda corro veloce non è vero mmmm ma trovo lento trovo lento ah arriva lo arriva aaaaaaah parapara eeeh eeeh guardalo di fianco quello scemo eeeh devi mangiare ricchello porca miseria aiuto aiuto giro intorno giro intorno giro intorno giro intorno eeeh e muoio c'è Luke che fidda io non lo so 1 9 guarda veramente aaaah cosa succede all'inquadratura cosa capita aaaaaah cosa succede aaaaaah torna guarda come correvo gg dai prendilo ancora già non so la prossima volta Luke mi raccomando cosa sta facendo poi che ballo particolare guarda 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 guarda